Ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram ma soprattutto vi ricordo che sono anche attiva su Facebook. Vi lascio tutti i link in infobox. Detto questo, diamoci dentro col video. Ciao a tutti. Lei impugneremi, sorride mentre tiene d'occhio sua sorella per assicurarsi che non si sporga dal gommone. Sono avarigotti, costa ligure di Ponente dove i genitori hanno appena comprato una casa a seguito di una vita di sacrifici. Da piccoli Alice e Alberto sono molto legati nonostante tra di loro ci siano otto anni di differenza. Alberto, il fratello maggiore, è il punto di riferimento costante di Alice. È un ragazzo felice ma ha dei problemi di salute. All'età di otto anni gli viene diagnosticata l'epilessia. Antonella, la madre di Alice e Alberto, guarda quella foto con nostalgia. Afferma, eravamo felici. Fa tanto male vedere quella foto perché a distanza di 29 anni Alice e Alberto non ci sono più. Ma perché non ci sono più? Andiamo per ordine. Gli scagni si stabiliscono a Genova e Alberto all'età di 16 anni vive già da solo nella casa che la nonna materna ha acquistato accanto alla sua, in un palazzo che dista circa 150 metri dall'attuale abitazione degli scagni. Inevitabilmente già a 16 anni Alberto acquisisce un'autonomia maggiore rispetto ai suoi coetanei. Passano gli anni e il ragazzo sembra condurre una vita normale. Arriviamo alla maturità di Alberto, è al liceo scientifico Enrico Fermi e deve affrontare la terza prova. Alberto è in classe, scrive sul foglio a protocollo. All'improvviso perde lo sguardo, si divincola, cade, ha un attacco epilettico. Non può terminare gli esami, quindi viene bocciato. L'anno è da ripetere. Questa per lui è un'umiliazione, viene esonerato da educazione fisica, si sente escluso dai compagni. Eppure pratica il karate, è cintura marrone. Alberto ripete l'anno ed ecco che arriva nuovamente il giorno dell'esame. Antonella, la madre, dice «è stato male tutta la notte, me lo ricordo come fosse adesso». Il padre aggiunge «Ad ogni prova dell'esame siamo rimasti in un'auto accanto alla scuola per paura che potesse capitargli un altro attacco epilettico». Alberto questa volta si diploma, l'esame però non va benissimo. 67 su 100. Dopo il liceo si iscrive a scienze politiche. Alberto prova a studiare, frequenta intermittenza e non si appassiona. Si registra a un'agenzia interinale per trovare lavoro. Diventa barista all'occorrenza e pizzaiolo per necessità. Il lavoro però non lo conquista, preferisce i libri. Alberto di libri ne compra tanti. Adora Murakami, i testi sul Giappone, la filosofia orientale. Scrive poesie. Vuole diventare uno scrittore. Si rifugia spesso nella casa di campagna a Pozzò il Groppo, in provincia di Alessandria. Lì spacca la legna, dipinge Alberto ama Van Gogh. Il disincanto dal mondo, l'anima dissidente. Compra degli acquerelli e una macchina fotografica. Resta ore in contemplazione delle stelle. Chiede al padre di fare come lui, di stare lì a guardare le stelle. La vita, però, non è così semplice. Bisogna lavorare. Graziano Scagni e sua moglie, Antonella, lo sanno bene. Lui è direttore amministrativo in una scuola, mentre lei è dirigente di filiale di una banca. Antonella non è una mamma casalinga. Esce di casa alle 7 e rincasa alle 20. Dedica tantissime energie al lavoro, cercando di tenere in piedi il lavoro e la famiglia. Alberto, intanto, trova lavoro come impiegato amministrativo e ottiene un contratto a tempo indeterminato. Riceve diversi apprezzamenti dai dirigenti. Suo padre, Graziano, però, sostiene che Alberto lavora solo per arrivare a sera e crollare dal sonno. Non vive per lavorare, bensì lavora per vivere. Non ha alcuna ambizione. Intanto Alice, la sorella di Alberto, si diploma con 97 su 100. Va poi all'università, frequenta giurisprudenza e si laurea con 92. Viene assunta in uno studio di commercialisti, si fidanza col suo futuro marito, Gianluca, e inizia la sua brillante carriera. Nel frattempo, la vita di Alberto si complica. Viene colto da un attacco epilettico inaspettato. Viene portato in ospedale e, quando viene dimesso, si licenzia. Alberto ha raggiunto il limite. Per lui è ormai insostenibile lavorare per gli altri. È uno spirito di velle e chiude anche la sua relazione con la sua fidanzata storica, Roberta. La madre, Antonella, gli trova un'opportunità di lavoro in uno studio legale. Alberto va a fare un colloquio e lo assumono. Vedere mio figlio andare in giacca e cravatta a lavorare era bellissimo, dice Graziano. Ma è un'illusione. L'ennesima delusione. Alberto si sente stretto in quei vestiti. Dimentica scadenze, sbaglia contratti e, alla fine, viene licenziato. Poi gli ritirano la patente per guida in stato di ebrezza. Alice, invece, diventa presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda. Poi si sposa. Vanno a scegliere il vestito da sposa per Alice a Torino e quella è l'ultima gita della famiglia al completo. Quando Alberto vede Alice vestita da sposa, si commuove. È tanto emozionato e felice per lei. Poi arriva il covid e Alberto, che già dimostra di avere difficoltà, sprofonda sempre di più nell'abisso. Prima andava in palestra, ma le palestre chiudono durante il lockdown. Gira per strada senza mascherina perché non sopporta l'autorità. L'imposizione. Parcheggia l'auto sul marciapiede e inevitabilmente fioccano le multe. Il padre si arrabbia, però le paga. A marzo 2021 nasce Alessandro, il figlio di Alice. La ragazza è al settimo cielo. Alberto, però, è indifferente. Presta poca attenzione al nipotino ed è avaro di carezze. Poi ecco che arriva l'ossessione di Alberto. È convinto di essere costantemente controllato. Sostiene di avere delle micro spie in casa. Per cercare di tranquillizzarlo, i genitori fanno una bonifica ambientale. Antonella e Graziano si rendono conto che tra loro e il figlio c'è un enorme distacco emotivo. Sta diventando aggressivo e i suoi atteggiamenti si fanno preoccupanti. Alberto in questo periodo non lavora. Vive con il reddito di cittadinanza e alla fine del 2021 disinveste un fondo pensione di 16.000 euro che i genitori gli avevano accantonato. Alberto a questo punto ringrazia i genitori perché con questa cifra può permettersi di vivere un pochino meglio. Sua madre Antonella, però, gli dice che quei soldi erano destinati a momenti più difficoltosi perché per ora ci sono loro che possono aiutarlo. Alberto, però, dice a sua madre che quei soldi li vuole subito perché vuole vivere bene. È stufo di andare avanti solo con il reddito di cittadinanza. Antonella a questo punto dice a suo figlio di usarli bene questi soldi, ma Alberto nel giro di tre mesi li spende tutti, soprattutto in alcol e sostanze. E più fa uso di alcol e sostanze, più perde il contatto con la realtà. Non fa neanche più domanda per il reddito di cittadinanza e pretende di essere mantenuto dai genitori. Inizialmente si limita a chiedere i soldi per la spesa, ma via via le sue richieste diventano sempre più esorbitanti. Arriva a chiedere 120.000 euro o 80.000 euro. Alberto gli 80.000 euro li chiede come risarcimento per la sua malattia e per la sua vita, complicata proprio dai suoi problemi di salute. La colpa ormai Alberto la fa ricadere sui suoi genitori. È colpa loro se è ammalato. È colpa loro se non riesce a portare avanti un lavoro, perché le sue condizioni fisiche non glielo permettono. Anche Alice dà dei soldi ad Alberto e suo fratello e gli vuole bene. Però il ragazzo col tempo comincia a scrivere delle mail a dir poco deliranti, come ad esempio questa che ha inviato proprio a sua sorella. E che i rettiliani comandano le istituzioni perché sono arrivati insieme ai visitors quando la terra non era ancora piatta per colpa delle scie chimiche. Non te l'ho detto? Questo mi stupisce. Dunque, non sai se il nostro padre Graziano Scagni si trovi in Piemonte oppure qui a Genova? Alice a questo punto dice basta. La comunicazione con Alberto è inesistente. Lei dice una cosa e lui le risponde dicendo cose che non c'entrano assolutamente nulla e soprattutto non riesce a mantenere la sua famiglia e anche lui. Alberto pubblica sulla propria bacheca sociale, su quella della sorella, continuo e lamentele per le mancate pronte risposte della famiglia, coinvolgendo anche il marito della donna. Proprio nei confronti di questi, Alberto cova sentimenti di gelosia anche per i suoi buoni rapporti con la famiglia della moglie. I genitori, insieme ad Alice, su consiglio di uno psicologo, si rivolgono al centro di salute mentale ASL3 di Genova. Antonella tenta di contattare il primario, non senza difficoltà. Telefona tantissime volte e riesce a parlare con questa persona intorno alla metà di marzo 2022. A seguito del colloquio, il primario non ha alcun dubbio. Alberto deve essere preso in carico dal centro di salute mentale. Il primario, dunque, dice ad Antonella che deve fare mente locale per capire quale dei suoi collaboratori è più adatto a prendere in cura un caso di tal tipo. La donna sarà quindi richiamata per avere un appuntamento. Passano tre settimane e nel frattempo Antonella continua a chiamare, sottolineando che sono giorni e giorni che sta aspettando il nome di un dottore che possa curare Alberto. Alice a questo punto dice a sua madre di mandare una mail, così rimane anche una traccia. Nel frattempo, Alberto peggiora sempre di più, arrivando ad entrare a casa di sua nonna chiedendole dei soldi e rifiutandosi di andarsene se non l'avesse accontentato. Antonella, quindi, manda una mail in cui sottolinea che ha necessità di ottenere un appuntamento, perché suo figlio Alberto sta peggiorando sempre di più. L'aggressività del ragazzo si sta traducendo in atti di intimidazione. Due giorni dopo, una dottoressa della ASL chiama Antonella e finalmente fissa un appuntamento con Alberto e la sua famiglia per il 22 aprile. Alberto però, in una mail, scrive Ok, 9,50 alla fiumara, facciamo sta pagliacciata, ma dietro compenso e anticipato, 30.000 euro, grazie. Il 22 aprile al centro di salute mentale si presentano solo i genitori e Alice, perché chiaramente non hanno dato ad Alberto 30.000 euro. Dicono alla dottoressa che cominciano a temere un escalation di aggressività di Alberto e non sanno come dovrebbero comportarsi. La dottoressa però li tranquillizza, li invita a stare calmi, rassicurandoli del fatto che avrebbe preso in carico questa situazione. Questa dottoressa, attenzione, dice alla famiglia Scagni che i suoi colleghi la chiamano Mastino, perché quando prende un caso lo porta fino in fondo. Antonella, ancora allarmata, chiede alla dottoressa cosa fare se per caso accadesse qualcosa di pericoloso e non potessero contattarla. La dottoressa ribatte che qualsiasi cosa Alberto faccia di pericoloso, loro devono contattare il 112, in quanto sanno come gestire questi casi. In questo modo il 112 allerta immediatamente la dottoressa che ha in mano la cartella clinica di Alberto, quindi possono intervenire con le forze pubbliche per passare al TSO. Da questo momento chiaramente la famiglia Scagni è convinta che chiamare il 112 sarebbe stata la soluzione giusta. Avrebbero salvato Alberto, lo avrebbero fermato, gli avrebbero fatto il TSO e quindi lo avrebbero curato. È il 22 aprile e la mail dell'ASL per la convocazione di Alberto non arriverà prima del 2 maggio. Troppo tardi, perché intanto la situazione mentale di Alberto degenera velocemente. Mentre il centro di salute mentale non fa nulla, Alberto fa molto, perché comincia a danneggiare la porta d'ingresso della nonna, che vi ricordo abita vicino a lui, nello stesso palazzo. L'anziana signora sa benissimo che a danneggiarle la porta di casa è stato Alberto. La prende ammazzate molto spesso, ma nonostante dica ai carabinieri che il colpevole è suo nipote, loro sostengono che non ci sono prove, perché lei mica l'ha visto Alberto prendere ammazzate la porta d'entrata. Nel frattempo Alberto non si ferma e crea numerosi problemi anche ai condomini del palazzo. Infatti una vicina di casa arriva a chiedere ai carabinieri di pattugliare il palazzo che si trova in via Valvi Piovera, al civico 15, perché hanno paura di Alberto. La vicina sottolinea che quel ragazzo sta diventando davvero parecchio pericoloso. Non lo riconoscono più e sta facendo delle cose mai fatte prima che li spaventano. Alberto sviluppa un tratto ossessivo e paranoide nei confronti dei vicini, sente voci strane, rumori, immagina che gli altri si siano equalizzati contro di lui e si sente spiato. Inizia a incastrare degli stuzzicadenti nei citofoni per farli suonare in continuazione, fa rumore, picchia contro i muri la mazza da baseball, anche di notte, non facendo dormire nessuno. I condomini allertano più volte le forze dell'ordine, le quali o non si presentano o se lo fanno dicono semplicemente che loro non possono fare nulla, hanno le mani legate. La situazione quindi non viene presa in carico da nessuno, sono i condomini che in qualche modo se la devono gestire da soli. La famiglia, lo dicono anche i condomini, ha provato in tutti i modi ad intervenire, chiedendo numerose volte aiuto, ma è stata letteralmente abbandonata. Ma non dimentichiamoci della nonna di Alberto, che abita nello stesso condominio, in un appartamento accanto a quello del nipote. L'anziana donna ad aprile chiama più volte le forze dell'ordine perché Alberto a tutte le ore colpisce con una mazza da baseball il muro che divide i due appartamenti e la sua porta. Gli agenti che intervengono ripetono anche a lei che se non ci sono le prove non possono fare nulla. Arriviamo quindi alla sera del 30 aprile, quando Alberto infila un cartone sotto la porta della casa della nonna e gli dà fuoco. Ovviamente intervengono i vigili del fuoco e anche se non c'erano prove che il colpevole fosse Alberto, perché nessuno l'aveva visto, erano consapevoli che comunque l'atto l'aveva commesso lui. Dopo aver dato fuoco alla porta di sua nonna, Alberto si presenta davanti a casa dei genitori che giustamente cercano di farlo ragionare, o meglio, cercano di avere uno scambio con lui, un contatto, ma ormai Alberto con loro non parla più. Anzi, qualcosa dice in realtà, apre la bocca solo per chiedere soldi, sempre più soldi. A questo punto Antonella e Graziano fanno salire in casa Alberto e nel frattempo chiamano anche un vicino di casa. Quando sono tutti in casa, Alberto di nuovo chiede solo di avere dei soldi, null'altro. Antonella è davvero spaventata, l'unica cosa che le resta da fare è chiamare il 112, quindi prende il telefono in mano e dice a voce alta quali sono le sue intenzioni. Il vicino di casa quindi interviene dicendo ad Alberto, ma no, senti, chiama il 112 e col 112 parte il coatto, ossia il TSO. Alberto a quel punto si alza in piedi, gli sorride, dice hai ragione e scappa. Questa è l'ultima volta che Antonella vede Alberto. Pochi minuti dopo, alla sua porta si presentano due agenti che sono appena intervenuti a casa della nonna. Antonella dice ad un agente, mi lasci sedere perché mi tremano ancora le gambe. E' appena andato via di qua mio figlio, che è quello che ha bruciato la porta di casa di mia madre. Antonella quindi con calma racconta agli agenti il disagio di Alberto e loro redigono un verbale. Antonella chiede quindi dove metteranno il verbale, perché in quei giorni ci sono state diverse visite di loro colleghi che però non hanno sortito alcun risultato. Il carabiniere con un tatto che fa quasi spavento ribatte, stia tranquilla signor, lo sappiamo noi dove mettere questo foglio. Antonella però non molle, ribatte agli agenti, siete venuti qui a interrogare me. Ma avete interrogato Alberto? Siete andati a vedere come sta? Le forze dell'ordine ribattono, non si preoccupi, noi sappiamo qual è il nostro lavoro. Lei firmi il verbale. Antonella a questo punto non può che constatare che queste persone non sanno quanto sia drammatica la situazione di Alberto e non hanno neanche intenzione di comprenderla. Antonella insiste e prega le forze dell'ordine di andare da Alberto e dice queste esatte parole, perché noi abbiamo paura di nostro figlio, abbiamo paura che ci faccia fare la fine dei genitori di Benno. Uno dei due carabinieri si gira ed esclama «E signor, non famo la tragica!» Questo accade il 30 aprile. Quella notte il padre di Alberto va a presidiare la casa della suocera. Il ragazzo inizia a picchiare delle mazzate fortissime contro il muro. Sua suocera, la madre di Antonella, si sveglia e con le lacrime agli occhi esclama, rivolgendosi a Graziano «Mi butta giù il muro! Mi butta giù il muro!» Ovviamente Graziano telefona di nuovo alle forze dell'ordine, che però non agiscono, perché sono state lì poche settimane prima, erano anche intervenuti i pompieri. Quindi la notte tra il 30 aprile e il primo maggio passa. Arriva il primo maggio. Alberto nel primo pomeriggio alle 13.10 telefona nuovamente al padre Graziano per chiedergli dei soldi. Gli dice «Dove sono i soldi? Io controllo sul conto!» Lo insulta, poi aggiunge «Io ti taglio la gola, vi ammazzo tutti, tra cinque minuti controllo il conto!» Conclude quindi la telefonata. Graziano sente che la voce di suo figlio Alberto è alterata. Sembra che non sia più in sé, quindi si preoccupa. Credo che questa situazione sia davvero assurda. Insomma, hai timore di tuo figlio, hai paura che possa farti del male, ma allo stesso tempo sei preoccupato per lui, perché ormai sai che le sue azioni e le sue affermazioni non hanno più aderenza con la realtà. Dopo cinque minuti il cellulare di Graziano suona di nuovo e la conversazione è questa. Alberto dice «Oh!» parola con la F che si usa per insultare gli omosessuali. E allora suo padre ribatte «E allora cosa?» Alberto risponde «I soldi per mangiare, uomo di merda!» Graziano, mantenendo la calma, chiede «Tu invece cosa sei?» Alberto, urlando, risponde «Io sono un uomo, a differenza di sette miliardi di persone che stanno sulla terra e respirano l'aria che respiro io, e mi fa schifo pensare che respiro la stessa aria, che non si dovrebbero permettere». Graziano a questo punto interviene chiedendo «A fare cosa? A mantenere te?» Alberto risponde, ancora esclamando «Rincoglionito di merda! Cinque minuti controllo il conto! Se non ho i soldi stasera, Gianluca e tua figlia, sai dove cazzo sono?» Graziano a questo punto chiede «Stupito!» «Cosa hai detto?» Alberto ribatte «Lo sai dove cazzo sono?» Graziano a questo punto chiama il 112. Per lui questa chiamata rappresenta un grido fortissimo di allarme. Significa denunciare Alberto, ma soprattutto avere la sicurezza di ricevere aiuto. Il problema è che Graziano si sente dire «Domani vada in commissariato e faccia denuncia!» L'uomo non ce la fa più. «Domani?» «Domani è troppo tardi!» Ha già registrato una chiamata a dir poco preoccupante che gli ha fatto suo figlio. Una minaccia di morte verso sua figlia e il marito di quest'ultima. Graziano dunque prega i carabinieri di fare qualcosa. Dice più volte che suo figlio si è comportato in modo irrazionale, facendo casino per tutta la notte. Il tutto si è concluso con una minaccia. Non può aspettare il giorno dopo a fare la denuncia. Ha bisogno di farla immediatamente. Infine Graziano chiede se possono mandare una volante. Ma è il primo maggio e gli dicono che non ci sono pattuglie a disposizione. Graziano a questo punto pensa all'essenziale. Alla fine Alberto, in chiamata, aveva minacciato Alice e Gianluca. Dunque l'uomo chiede di nuovo che venga inviata una pattuglia. Questa volta sotto casa di Alice e di suo marito. Invie Fabrizi nel quartiere Quinto a Genova. Ma nessuna volante viene inviata né a casa di Antonella e Graziano né a casa di Alice e Gianluca. Nonostante l'uomo abbia supplicato i carabinieri per ben 16 minuti al telefono. Antonella a questo punto è convinta che sia necessario l'intervento di persone armate che possano contenere Alberto. Il tempo degli psicologi e psichiatri sarebbe arrivato dopo. Ormai il ragazzo è diventato incontenibile. Sono alle 13.30, subito dopo Graziano si occupa di portare in un luogo sicuro la nonna. Mentre Antonella avvisa la figlia Alice e le raccomanda di rimanere in casa. Dopo il mancato intervento del 112, Antonella, la mamma di Alice e Alberto, dice chiaramente che l'unica speranza di contenere la situazione era ormai svanita. Lei e il marito non erano stati minimamente ascoltati, quindi non le restava che pregare. Purtroppo però le preghiere non bastano perché alle 9.15 di sera la chiama la sua consuocera dicendo ma tu sai cos'è successo ai ragazzi perché Ivy, ossè il cane di Alice e Gianluca, è arrivata qua. Cos'è successo quindi? Verso le 8.40 Alice esce dal portone di casa sua per portare fuori il cane e viene immediatamente aggredita con un coltello dal fratello Alberto che la colpisce con 19 coltellate alla schiena e all'addome. Antonella è una furia, chiama di nuovo il 112 urlando non avete fatto un cazzo all'una di oggi e adesso mio figlio ha fatto del male a mia figlia Alice. Antonella quanto pare resta al telefono, dice lei, per circa 20 minuti ma nessuno le sa dire nulla. Quando termina la chiamata col 112 Antonella richiama la sua consuocera e quest'ultima le dà la notizia peggiore quella che nessun genitore vorrebbe mai ascoltare. Alice non ce l'ha fatta. Alice è uscita di casa col cane dicendo è mio fratello, mi vuole bene, non mi farebbe mai del male. Invece è proprio suo fratello colui che l'ha colpita così tante volte per poi darsi alla fuga. Viene fermato e arrestato a pochi metri di distanza, sporco di sangue. La triste verità è che Alice è morta totalmente da sola. I suoi genitori non hanno potuto neanche tenerle la mano perché è morta per strada. Quando sono arrivate le ambulanze era già troppo tardi. La mattina dopo, quinto, il quartiere in cui abitava Alice, è sotto shock. L'atmosfera che si respira è un misto di incredulità e sgomento. La domanda nasce spontanea. Alice poteva essere salvata? Questa tragedia è maturata in mesi, dove lo Stato non è esistito. Quindi la risposta è una. Sì, questa tragedia poteva e doveva essere evitata. Io non voglio neanche immaginare il dramma con cui hanno dovuto fare i conti Antonella e Graziano. Alice non è stata uccisa da un estraneo, ma da suo fratello. E i genitori sapevano che era pericoloso. L'hanno reso chiaro anche alle forze dell'ordine. Hanno provato a far capire la gravità della situazione, che puntualmente è stata presa sotto gamba. E ora cosa resta? Una donna meravigliosa, Alice, è morta lasciando un marito. È un bimbo splenido di appena due anni, Alessandro, che crescerà senza la sua mamma. Nei giorni successivi alla tragedia, guardando le foto di Alice, ha sussurrato «Mamma, non potrà riaverla indietro». Crescerà col padre Gianluca, rimasto vedovo, e con i nonni paterni e quelli materni. Così i genitori di Alice e Alberto hanno denunciato le forze dell'ordine e le strutture sanitarie coinvolti per omissione di atti di ufficio e morte in conseguenza di altro delitto. Viene dunque aperta un'indagine a carico di ignoti. Ma arriviamo al 14 novembre 2022, quando l'indagine, nata su pressione dei genitori di Alice, non è più a carico di ignoti. I tre indagati per omissione d'atti d'ufficio e omessa denuncia sono due poliziotti e un medico della salute mentale. I primi, in quanto il primo maggio, non si attivarono nonostante gli appelli della madre e del padre di Alice, e la dottoressa della salute mentale, in quanto non diede seguito alla richiesta dei genitori di ricoverare Alberto. Secondo Giacomo Mongodi, psichiatra e consulente della procura di Genova, Alberto era capace di intendere e di volere quando ha ucciso la sorella Alice. Invece, il vezzio Pirfo, il perito incaricato dal giudice dell'indagine preliminare, Paola Fagioni, dichiara Alberto Scagni semi-infermo e socialmente pericoloso. L'accertamento sulle condizioni mentali di Alberto Scagni è un passaggio importante perché potrebbe avvalorare le accuse dei familiari per i quali è totalmente infermo contro l'inerzia di polizia e medici. A dir la verità, a quanto pare, bastava guardare la bacheca social di Alberto Scagni per capire che si stava verificando un escalation verso la violenza. Se sia frutto di disagio mentale oppure di una simulazione e pianificazione accurata per sfruttare un'eventuale infermità mentale in fase di processo, saranno i periti a dirlo. Certo, Alberto usava le baccheche di Facebook per lanciare messaggi, avvertimenti, capaci di suscitare preoccupazioni in quelli che considerava avversari, nemici, quindi parenti, vicini di casa e l'ex fidanzata di cui aveva anche pubblicato alcune foto. Nel frattempo sparite dai social, probabilmente su richiesta della stessa. Nelle foto pubblicate si vedono mazze, una pallottola, un coltello, le ricevute della bonifica ambientale del suo appartamento con esito negativo perché pensava di essere spiato, ne era convinto. Poi le tracce delle angherie ai vicini di casa, così pressanti che qualcuno è stato costretto a pensare di cambiare residenza. Tra i post c'erano anche riferimenti a persone condannate per omicidio, tra cui il serial Donato Bilancia. Forse sto per essere giudicato male da chi non ho mai giudicato male, scriveva su Twitter proprio il primo maggio, poche ore prima dell'omicidio e poi ancora cose difficili nella vita, rispondere sì oppure no. Me lo segno? Ma sì dai, ho appena fatto una cosa difficile. Tra i tanti commenti di condanna che gli utenti della rete hanno scritto sulla bacheca di Facebook di Alberto Scagni, ce n'è uno fuori dal coro scritto da una donna che probabilmente si nasconde dietro un account fake. La persona che scrive dice di soffrire di ibristofilia, Una parafilia in cui il raggiungimento del piacere o la facilitazione ad esso sono dipendenti o comunque contingenti dal fatto di essere a conoscenza che il proprio partner abbia commesso qualcosa di non consentito dalla legge, quindi dei veri e propri crimini anche efferati. La cronaca racconta di molti seriali subissati in carcere delle lettere di pretendenti. A distanza di tre mesi dal delitto, quindi ad agosto, la madre ha scritto al procuratore di Genova una lettera in cui chiede di divulgare le telefonate nelle quali i familiari chiedevano aiuto per curare Alberto, affetto da problemi mentali. Vi leggo immediatamente la lettera. Ho visto in modo prepotente e spietato insorgere la malattia in Alberto e progredire in modo inesorabile, alimentata proprio dall'amore che aveva per sua sorella, con la quale aveva sempre avuto un rapporto speciale. Ho cercato in tutti i modi che conoscevo di arraginare quella malattia, che mi spaventava sempre di più fino a non riconoscere più mio figlio. Abbiamo cercato aiuto nelle istituzioni. Ci siamo imbattuti in una fredda e ignorante burocrazia. Questo scrive Antonella Zarri, la madre di Alice Alberto. Poi continua. La donna spiega di aver ricevuto una risposta indolente ma prepotente nel suo reiterato e pigro rifiuto di farsi carico del proprio ruolo di garanzia e aiuto verso i cittadini in difficoltà. Sono perfettamente consapevole del fatto che le cronache su come è stata distrutta la mia famiglia presto termineranno. Ho l'atroce sospetto che si voglia far calare il silenzio su ciò che è accaduto. Questo è quanto pensa Antonella. Lo dico da madre alla quale sono stati uccisi due figli. Abbiate il coraggio di rendere pubblico il drammatico dialogo di un genitore che invoca disperatamente aiuto, sapendo che il proprio figlio, delirante e impazzito, sta per uccidere sua sorella. È la risposta delle forze dell'ordine. O forse la vergogna di qualcuno deve essere protetta? Alberto è e sarà sempre mio figlio. Io e suo padre abbiamo assistito impotenti e soli alla sopraffazione spietata della sua devastante malattia. Antonella dice al procuratore che il figlio, nella sua oscura follia, ci ha pronunciato il delitto. Poi, la richiesta. Noi abbiamo chiamato le forze dell'ordine. Abbiamo chiesto a chi doveva e ne aveva il potere di fermarlo e di curarlo. Quelle telefonate sono state registrate e sono agli atti del fascicolo. Perché ce le nega? Perché ci nega la semplice notizia dell'apertura di un'indagine nei confronti di coloro che avrebbero potuto e dovuto intervenire ed evitare tutto questo? Ci dia quelle telefonate, per favore, perché voglio farle ascoltare a tutti. Abbiamo l'impressione che lo Stato pensi solo a difendere se stesso e che il sistema ha funzionato perfettamente. Le colpe sono tutte di Alberto e quindi rimane un problema familiare. Comodo, no? Ci dia quelle telefonate e vediamo poi cosa ne pensa chi li ascolta. Chiaramente la risposta del procuratore non tarda ad arrivare e dice Deremo i file più avanti, ora l'inchiesta e su altri aspetti. Quelle telefonate non sono state messe a disposizione perché è in corso l'incidente probatorio sul quadro psichiatrico di Alberto Scagni. La lettera incontra il nostro totale rispetto sul piano umano. Alberto, hai ucciso tua sorella? Alla domanda dello psichiatra, il 42enne che la sera del primo maggio ha accoltellato a morte Alice Scagni risponde In quel momento mentalmente ero qualcun altro. C'era la persona che i miei genitori e i miei vicini di casa hanno fatto arrivare lì, affamandola per dei mesi, torturandola psicologicamente. Queste sono le parole del fratello di Alice Scagni raccolte nella perizia psichiatrica che, la mercoledì 19 ottobre 2022, è sulla scrivania del GIP Paola Fagioni. Nelle 119 pagine firmate dallo psichiatra Elvezio Pirfo, che lo ha dichiarato semi-infermo mentalmente, emerge un profilo dell'assassino narcisista, borderline e socialmente pericoloso. E secondo quanto riferito dagli esperti della mente, sembra che Alberto abbia dissociato l'omicidio e non lo abbia ancora nella mente conscia. Insomma, non ha mai fatto una propria ricostruzione di come si sia svolto l'omicidio, negando di averlo compiuto tranne in due colloqui, dove afferma di essere stato mentalmente un altro. Alberto, difeso dagli avvocati Elisa Brigandì e Maurizio Mascia, si autoproclama vittima del mondo che lo circonda e incolpa i suoi familiari di averlo messo da parte. Infatti, spiega, il fatto che uno ti dica un giorno, guarda, devi essere seguito da un centro di salute mentale perché mi preoccupo per te, è un atteggiamento strano perché se ti preoccupi per me, mi domando come mai per un anno non mi hanno fatto mai una telefonata. Dice l'assassino in uno dei colloqui con psichiatri, psicologi e medici legali che hanno cercato di capire come si è arrivato ad uccidere la sorella, proprio l'unica familiare, anche a detta dei suoi genitori, con cui si confidava e comunicava prima della tragedia. Mia sorella, io, ho sempre cercato di proteggerla, dice Alberto. Quando si è sposata faceva addirittura finta di voler bene a suo marito. Pessimo era il rapporto con il cognato Gianluca, marito di Alice. Mia sorella era succube di lui, racconta ancora Alberto, ai medici farneticando di interessi sull'eredità. Se io mi fossi suicidato, i soldi sarebbero andati solo a mio cognato. Mio cognato non ha avuto il coraggio di uscire dalla porta e ha mandato lei. A dicembre del 2022, il Vezio Pirfo, perito del giudice, per le indagini preliminari, nel corso dell'ultima udienza dell'incidente probatorio sulle condizioni psichiche di Alberto, lo definisce una bomba d'orologeria. Il Vezio Pirfo ha sottolineato il nesso causale tra la malattia mentale di Alberto e l'omicidio della sorella, dicendo che è semi-infermo di mente, ma capace di stare in giudizio. Mentre per il consulente della procura, Giacomo Mongodi, è pienamente capace. Proprio a causa di questi due pareri opposti era stato riaperto l'incidente probatorio. In aula anche i genitori di Scagni, che avevano parlato di una serie di imperdonabili sviste che alla fine hanno portato all'omicidio della figlia, all'uscita hanno detto che non è stato iscritto il loro esposto e dunque a loro non è permesso essere parti civili. Di conseguenza non si possono sentire le telefonate fatte al 112 quel giorno. Ma non solo. A questo punto, minacciano i coniugi, non resta che incatenarsi davanti alla procura. Mentre la procura dovrà chiudere le indagini sull'omicidio, vanno avanti quelle sulle omissioni per cui sono stati indagati due poliziotti e un medico per non aver riconosciuto i segni di allarme e non aver preso in carico Alberto Scagni. Ovviamente vi terrò aggiornati dandovi delle novità appena inizierà il processo e appena ci sarà una sentenza in primo grado. Detto questo, vi ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere se siete più interessati a questi casi un po' più freschi perché ho notato che me li avete chiesti. Quindi insomma fatemi sapere. Immagino che voi conoscevate questo caso, però voglio sapere cosa ne pensate di questo caso. Quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Come al solito penso che la salute mentale, spesso e guarentieri, venga presa sotto gamba. E purtroppo questo è un enorme errore. Questo enorme errore purtroppo è costato la vita a una donna. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Basta che non facciate nulla di criminale. Basta che non facciate nulla di criminale. Grazie a tutti.